la nostra pallina finalmente possiamo dire che è negativa alla felve e allora incominciamo con i primi avvicinamenti la vedo dura no 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 pallina e fai piano però piano fai piano bravo piano piano bravissimo vedi di te non ha paura guarda Grazie a tutti. 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 Fai piano. Fai piano. Piano piano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.